Salve, sono Chris Ferrara per Prospettive su Fatima, una serie di Fatima TV dove commentiamo gli eventi più importanti della Chiesa alla luce del messaggio di Fatima. Nelle ultime puntate abbiamo ospitato il mio amico e collega John Bernari che è con noi anche oggi. Grazie per essere qui con noi John. Grazie a te per l'invito Chris. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo parlato quella di quella enciclica sull'ambiente che alcuni hanno ironicamente battezzato la reciclica, cioè la laudato sì di Papa Francesco. Ecco, forse nel mezzo dell'apostasia che ha colpito la Chiesa non poteva esserci nulla di meno appropriato di una enciclica sull'ambiente. Ma uno in particolare dei problemi di questa laudato sì proviene da una delle sue note a piedi pagina nella quale Papa Francesco procede alla riabilitazione di un personaggio famigerato Teilhard de Chardin i cui iscritti erano stati denunciati e condannati per ben due volte dal Sant'Uffizio, l'ultima volta sotto Giovanni XXIII prima dell'inizio del Vaticano II. Sì, non ci sono scusanti, è un fatto davvero increscioso. Papa Francesco cita un passo di Teilhard de Chardin elogiandolo esplicitamente. E come lui cita anche altri eroi di Francesco, come il Cardinale Martini, il grande Leonardo Boff, il teologo della liberazione, anche egli seguace delle tesi di Teilhard. Ecco, a proposito di Boff, sappiamo che nel 2013 Francesco gli ha scritto chiedendogli di inviargli i suoi scritti sull'ambiente, in modo da poter preparare la nuova enciclica. Hai già dimostrato abbondantemente in questi ultimi mesi come l'influenza di Boff sia stata determinante per la stessura della laudatosi. Sì, è vero. Ma la cosa che più mi farà brividire è la citazione di Teilhard de Chardin in un documento pontificio, dopo che altri papi in passato lo avevano condannato in quanto una minaccia per i fedeli. Lo aveva detto Giovanni XXIII, una minaccia contro la quale bisognava proteggere i giovani. Sentite che cosa dice Papa Francesco di Chardin. Il traguardo del cammino dell'universo è nella pienezza di Dio che è stata già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. Ecco, cerchiamo di capire meglio questa frase, facciamo come piace ai modernisti, spacchettiamo questa assurdità. Esatto, vuole forse dire che Dio non è ancora giunto a pienezza? Ripetiamo quella frase, il traguardo del cammino dell'universo è nella pienezza di Dio che è stata già raggiunta da Cristo risorto. Ora, Cristo è Dio, quindi sta dicendo che il Cristo risorto ha portato a compimento la pienezza di Dio, cioè Dio con Cristo avrebbe raggiunto la sua completezza. In altre parole, si sarebbe evoluto. Questa è la tesi di Teilhard. Cristo stesso si evolverebbe e costituirebbe il cosiddetto punto Omega che si è evoluto dal punto Alpha. Dio quindi non solo fa evolvere, ma si evolve lui stesso e dopo aver raggiunto la sua maturazione, Cristo agirebbe quindi in quanto fulcro della maturazione universale e che cos'è questa maturazione universale? L'evoluzione. Ma in che contesto sta usando questa frase citata nelle note? In che modo la usa? Beh, il principio è che tutto è collegato e che ogni cosa si muova verso la sua maturazione finale e in altre parole tutto si evolve. Papa Francesco infatti prosegue così. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano insieme a noi e attraverso di noi verso la meta comune che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. Tutte le creature quindi si muovono verso il paradiso. Tutte, quindi anche i centipedi, le amebe. Centipedi, amebe, vermi, termiti, sanguisughe, chi più ne ha più ne emetta. Tutte si muovono verso Dio. Verso questo grande abbraccio cosmico. E anche i cani quindi vanno in paradiso. Sì, certo, come no? Essi sono creature che, come insegnava Sant'Omaso, hanno alcune caratteristiche simili a quelle dell'anima umana. Hai parlato tu in diverse trasmissioni di Fatima TV, ma la loro anima muore con la morte del loro corpo. Perché è organica. Esatto, è mortale. Cioè non ha un destino eterno, mentre il concetto secondo cui tutte le creature si muoverebbero verso Dio la raggiungeranno in una qualche sorta di unione finale, quello che per Taylor Den è il punto Omega. Ecco, è del tutto ridicolo. Però adesso è stato citato esplicitamente in un'enciclica pontificia. Francamente il pensiero stesso mi mette i brividi. Tu che ne dici? Sì, mette i brividi anche a me, davvero. E purtroppo la dice lunga sul rispetto dimostrato da Francesco per i suoi predecessori. Non è alcuno. Non gliene importa nulla delle precedenti condanne. Non gli importa di ciò che disse Giovanni XXIII nel suo Monitum pubblicato dalla Santa Sede nel 62 e indirizzato a tutte le università e istituzioni educative cattoliche affinché stesso ringuardia contro gli errori di Teilhard de Chardin. Non penso che Papa Giovanni avrebbe potuto essere più chiaro di così. Quest'uomo e le sue folie evoluzionistiche, i suoi tentativi di far entrare la teoria darwiniana nella teologia cattolica, sono stati un disastro per la Chiesa e hanno portato a tutta una serie di errori, uno dei quali è la negazione della differenza ontologica dell'uomo e della sua anima immortale. Se tutto e tutti tendono verso questo fantomatico punto Omega, che senso avrebbero un'anima immortale e il suo destino eterno, tutte cose decise da Dio nel suo primo atto di creazione. Per gli evoluzionisti non vi sono punti fissi nell'evoluzione, né causa iniziale né causa finale. No, infatti per loro tutto evolve verso il punto Omega e oggi questi sconcertanti concetti pseudomistici di Teilhard de Chardin sono stati ripresi da un'enciclica del Papa. Francamente mi risulta anche difficile commentare una cosa del genere. Davvero, questa enciclica sembra essere la magna carta di un nuovo stadio per la Chiesa. Era proprio il momento giusto di introdurre l'evoluzionismo nella Chiesa e di insegnare alla gente che tutto si evolve verso un fantomatico punto Omega. Pensa Chris, che in passato, per riassumere le tesi di Teilhard de Chardin, per anni ho usato questa analogia. Senti, per Chardin l'unica differenza tra me e un sasso è che io sono cosciente di me stesso, mentre il sasso no. Per lui, da qualche brodo primordiale, la materia inerte di miliardi di anni fa si sarebbe evoluta in uno spirito, dandoci qualcosa che prima non c'era. È questo il suo pensiero. Beh, Papa Francesco parla dell'entrata in gioco dell'uomo, dell'essere umano, a partire dall'universo fisico, ma noi sappiamo e crediamo, in quanto cattolici, che Dio ha creato l'universo e poi l'uomo ha creato Adamo e poi da una sua costola Eva. Leone XIII nella sua enciclica sul matrimonio cristiano ha affermato che questi sono fatti che non possono essere negati. Mentre Adamo era addormentato, Dio ha creato miracolosamente Eva da una sua costola in modo che i due, uomo e donna, fossero un'unica carne. Leone XIII non aveva fatto altro che ribadire ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, che ogni padre della Chiesa ha sempre affermato la creazione di Adamo ed Eva, non certo questo sorgere dell'uomo dall'universo fisico. Purtroppo non tutti sono in grado di cogliere la portata delle parole di Papa Francesco. Come al solito, in questa sua enciclica, con le sue frasi sibilline e ambigue, il Papa non va esplicitamente contro la definizione di Leone XIII, ma pur non negandola apertamente, lo fa implicitamente, infrangendo l'antica dottrina in modo subdolo, appunto, cosa che in pochi sanno cogliere. L'ha cambiata a tal punto, però, che adesso anche Dio deve sottostare ai requisiti dell'evoluzione. In un'occasione, parlando all'Accademia Pontificia dell'Ateismo, scusate, della scienza, ha detto, cito testualmente, quando leggiamo nella Genesi il racconto della creazione, rischiamo di immaginare che Dio sia stato un mago, con tanto di bacchetta magica, in grado di fare tutte quelle cose. Ma non è così. Ah no? È blasfemo. Esatto, ridurremmo Dio ad un mago se pensassimo che ha creato l'uomo direttamente e spontaneamente. Beh, il filosofo otomista Waters gli risponderebbe che quelle parole la dicono lunga sul pensiero di Francesco, molto più di quanto quest'ultimo abbia cercato di dire su Dio. Già, ed è per questo che il Vescovo Atanasio Schneider ha affermato che ci troviamo oggi in una crisi peggiore di quella ariana del IV secolo, ma continueremo a parlarne nella prossima puntata, John. Grazie per essere stati con noi a Prospettive su Fatima e arrivederci. Nelle ultime puntate abbiamo avuto come ospite il mio amico e collega John Vennari, direttore del Catholic Family News, giusto? Sì, esatto. Bene, in questo ciclo di puntate stiamo parlando dei problemi relativi all'enciclica laudato sì, promulgata da Papa Francesco. Sì, un'enciclica sull'ambiente e sull'ecologia. Che qualcuno ha ribattezzato reciclica, un termine che ridicolizza questa enciclica di Francesco, secondo me, ha ragione. Sì, è molto adeguato in effetti. Uno dei motivi per cui siamo così critici nei confronti di questa enciclica è che essa dimostra pienamente la portata dell'infiltrazione del pensiero evoluzionistico nella Chiesa, in particolare la pseudo-teologia evoluzionista di Teilhard de Chardin. Nella scorsa puntata hai citato una tesi di quest'ultimo, spiegando come il problema dell'evoluzionismo è che esso diventi una religione di per sé. Sì, l'ho citata proprio perché con Teilhard de Chardin l'evoluzione è un po' al centro di tutto. Teilhard de Chardin, giusto per ricordarlo, è stato un teologo francese, i cui scritti vennero condannati più volte dal Santo Uffizio, l'ultima nel 1962 sotto Giovanni XXIII, il quale mise in guardia tutti coloro che avevano posizioni di autorità nella Chiesa perché vigilassero affinché i giovani, soprattutto, non venissero influenzati dagli errori di Teilhard. Sì, certo, vedi, secondo De Chardin l'evoluzionismo è più di una teoria, è molto più di un'ipotesi, è una sorta di sistema filosofico verso il quale dovrebbero convergere tutte le teorie, tutte le ipotesi, se vogliono essere vere o credibili, anche quelle scientifiche. L'evoluzione sarebbe una luce che illumina tutti i fatti, una curva alla quale le rette devono piegarsi. Era proprio infatuato da tale teoria. Beh, secondo me non era sano di mente, lo dico sul serio, per quanto mi riguarda era diventato matto. Già. La gente non sa realmente chi sia Teilhard, ma stiamo parlando della stessa persona che Papa Francesco ha sdoganato, per così dire, nella sua enciclica, Laudato Si. Una persona, tra l'altro, coinvolta in un paio di patetiche frodi scientifiche, non è vero? De Chardin fu coinvolto in alcune frodi archeologiche, ma è stato anche quello che potremmo definire un eugenista. Credeva, cioè, nella selezione genetica per produrre dei superuomini, una cosa alla quale era interessato anche Hitler, tanto per capirci. Nel suo libro Fenomenologia dell'uomo, a pagina 281, se volete verificare per conto vostro, scrive, cito testualmente, Abbiamo permesso alla nostra razza di svilupparsi casualmente e non abbiamo riflettuto abbastanza sui fattori medici e morali che dovranno rimpiazzare in futuro le semplici forze della selezione naturale. Se dovessimo sopprimere quest'ultime, nel corso dei prossimi secoli, è fondamentale che si giunga alla scoperta e allo sviluppo di una nuova e nobile forma d'essere umano. In altre parole, Deschardin si auspicava una selezione genetica per creare un nuovo essere umano, un pazzo in sostanza, che però viene citato in un'enciclica del Papa. Già, comunque definirlo pazzo forse è addirittura un complimento. Stiamo parlando di un eugenetista convinto ed era dannatamente serio nelle sue teorie. Per lui l'eugenetica era uno strumento fondamentale per assicurare l'evoluzione dell'uomo. E sappiamo che uno dei più grandi amici e benefattori di Teilhard de Chardin, verso la fine della sua vita, fu niente meno che Julian Huxley. Già, Julian Huxley. Il famigerato scienziato ateo, membro della società eugenetica britannica, un'organizzazione mostruosa. Che, se non erro, ha firmato uno dei due manifesti umanisti. Huxley ha scritto l'introduzione a Fenomenologia dell'uomo ed è stato subito un sostenitore delle teorie di Chardin. Pensate che quest'ultimo ricevette sempre e solo condanne da parte della Chiesa, sin dagli anni venti. Appena pubblicava qualcosa, veniva subito condannato dal Santo Uffizio. Per questo Chardin si rivolse ad Huxley, l'ateo, e se visitate il Museo dell'Ateismo, vedrete che assieme alle opere di Marx e di Engels, ci sono anche gli scritti di Teilhard de Chardin. E questo malgrado fosse un gesuita, almeno in teoria. Sì, è vero. Il Museo dell'Ateismo si trova a San Pietroburgo e pensa che l'unico autore cattolico presente è proprio de Chardin. Esatto, e in Fenomenologia dell'uomo, la cui introduzione venne scritta da quel mostruoso eugenista che risponde al nome di Huxley, de Chardin cita proprio quest'ultimo. Sentito un po'. L'uomo scopre di non essere nient'altro che evoluzione continua e diventa quindi conscio di se stesso, per usare l'eccezionale concetto espresso da Julian Huxley. Incredibile. Sì, infatti, quasi come la forza. Già, come la forza di guerre stellari, ed è proprio questo che vediamo nel Laudato Si. Questo concetto dell'emergere dell'uomo nell'universo materiale, come se l'essere umano fosse una sorta di punto finale in un continuum evoluzionistico, che emerge per mezzo di processi fisici e in qualche modo si distingue dalle altre creature. Il Papa parla di questa distinzione dell'uomo come di una novità qualitativa, cioè la razionalità o la creatività artistica, che lo contraddistinguono dalle altre creature. Ma nel Laudato Si non troveremo mai scritto che ciò che rende unico l'uomo è il fatto che Dio lo ha dotato di un'anime immortale e razionale e che egli è l'unico ad averla tra tutte le creature dell'universo. Mi ricorderò sempre dell'insegnamento di Monsignor William Smith, un professore di teologia morale alla Doomwood University. Mi diceva sempre che ogni cambiamento sociale è preceduto da un cambiamento verbale, cioè del linguaggio. Ecco, forse anche per questo dovremmo essere ancora più preoccupati per questa enciclica, perché essa contiene un linguaggio del tutto nuovo per la Chiesa. I fedeli che la leggono vi trovano tante belle parole che scimmiottano la terminologia cattolica, ma il sensus fidelium gli dice state attenti, questo non è un documento realmente cattolico e se non lo sembra è proprio perché non lo è. Infatti è una cozzaglia di aberrazioni teologiche come quella di Teilhard de Chardin mischiate al racconto della Genesi, il che riduce quest'ultimo a una specie di mito, una storiella pittoresca. Ma sentite come prosegue Papa Francesco nella Laudato Si. La novità qualitativa implicata dal sorgere di un essere personale all'interno dell'universo materiale presuppone un'azione diretta di Dio, una peculiare chiamata alla vita e alla relazione di un tu e di un altro tu. Ora, fermiamoci un attimo. Che cos'è l'azione diretta di Dio? Le scritture ci dicono che Dio ha creato personalmente e direttamente l'uomo infondendogli l'anima immortale e razionale. L'uomo quindi non è una novità qualitativa che emerge dall'universo materiale, bensì una creatura creata esplicitamente e direttamente da Dio, cosa di cui in questa enciclica non vi è traccia. L'intervento di Dio nel mondo materiale è l'antitesi stessa dell'evoluzionismo ed è questa la verità che è andata smarrita in questa enciclica dove tutto è soggettivo. E se è andata smarrita c'è un motivo ben preciso. Esatto, e c'è la volontà di far conciliare la Chiesa con l'ambientalismo, un altro stadio terminale nell'autodemolizione della Chiesa avvenuto con il Concilio Vaticano II. Fare entrare in essa la pseudo-religione ambientalista perché di questo si tratta, di una religione, e ve ne parleremo nella prossima puntata. Nella laudato sì è evidente il tentativo di rendere l'ambientalismo appetibile per i cattolici e di sdoganarlo nella Chiesa. Ma il risultato non può essere che fallimentare perché porterà ad un compromesso dell'insegnamento cattolico. Ma ne parleremo nel prossimo episodio. Salve e bentornati a Prospettive su Fatima, una serie di Fatima TV dove commentiamo gli eventi più importanti della Chiesa alla luce del messaggio di Fatima. Ultimamente abbiamo avuto il piacere di ospitare il mio amico e collega John Bennari, direttore del Catholic Family News. Che saluto. Grazie, Chris. È sempre un piacere. Ultimamente stiamo parlando dell'enciclica laudato sì, meglio conosciuta come la reciclica, in particolare sul fatto che in essa vi sarebbe più di una traccia del pensiero evoluzionistico e di problemi che questo comporta per quanto riguarda il racconto della Genesi e altre dottrine cattoliche fondamentali come l'esistenza di un'anima immortale e razionale negli uomini. Purtroppo, come abbiamo accennato nella puntata scorsa, questo sembra essere il prezzo da pagare per aver voluto introdurre quella che molti definiscono la religione ambientalista. Ne parlò, pensato un po', Michael Crichton, il creatore di Jurassic Park. Non parliamo di un uomo qualunque, è stata una mente notevole, i suoi discorsi non erano niente male. Esatto, laureatosi giovanissimo a Harvard, Michael Crichton, cinque anni prima della sua morte, durante un suo discorso al Commonwealth Club, parlò del fatto che l'ambientalismo, secondo lui, era a tutti gli effetti una religione. Ebbene, a dieci anni di distanza dalla sua morte, una delle religioni più potenti in Occidente sembra proprio essere l'ambientalismo che è diventata una sorta di religione d'elezione per i cosiddetti urban atheists, gli atei urbani. Ma fermiamoci un attimo e parliamo del raduno di alcuni rappresentanti di questa categoria, quei sindaci democratici che si sono incontrati in Vaticano. Aspetta, Chris, spieghiamo meglio ai telespettatori di cosa stai parlando. Sì, dei sindaci del Partito Democratico che hanno partecipato ad una conferenza in Vaticano con Papa Francesco. Stai parlando cioè di persone pro-abortiste a favore dei diritti degli omosessuali e delle unioni gay, persone contrarie a Cristo sostanzialmente, che sono state invitate per parlare d'ecologia in Vaticano. Esattamente, per discutere in Vaticano di sviluppo sostenibile. Per Crichton l'ambientalismo è la religione preferita dagli atei. È una religione, cito testualmente, perché basta comprendere ciò in cui credono. Sentite cosa dice Crichton e non ditemi che non vi suona familiare con ciò che sta accadendo adesso nella Chiesa, inclusa l'ultima enciclica. L'ambientalismo è una rilettura moderna dei credi e dei miti tradizionali giudaico-cristiani. Si parte da un edem, uno stato di grazia e di unione paradisiaca con la natura. C'è poi la caduta da questo stato di grazia con l'arrivo dell'inquinamento dovuto al fatto di aver mangiato dall'albero della conoscenza. Infine, il risultato finale è che presto o tardi avremo un giorno del giudizio. Saremo tutti peccatori energetici e presto o tardi moriremo per questo a meno di non cercare la salvezza che oggi si chiama sviluppo sostenibile, cioè la salvezza nella chiesa dell'ambientalismo. Non vi suona familiare? Incredibile! Esatto, suona proprio com'uno dei temi principali del laudato sì che comincia in questo modo. Questa sorella, cioè la terra, protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Ecco, fermiamoci qui. Papa Francesco afferma che abbiamo abusato dei beni che Dio ci ha posto nella terra usandoli in modo irresponsabile. Facendolo avremo quindi abusato della terra che protesta e piange per il male che le arrechiamo. In primo luogo la terra non può certo piangere. Inoltre, se abbiamo abusato di qualcuno siamo semmai noi stessi esseri umani perché la terra ci è stata data affinché la potessimo usare. Non possiamo offendere la terra. Questo è il problema di fondo che deriva dalle infiltrazioni ambientaliste nella chiesa, questa personificazione del pianeta terra. esatto ed è proprio ciò che abbiamo denunciato nelle nostre trasmissioni. Un nuovo vocabolario che non deriva più dai chiari insegnamenti di Santo Maso d'Aquino o di San Roberto Bellarmino ma se è per questo nemmeno dal Vangelo. Semmai deriva da gente come Al Gore da questi ambientalisti pagani secondo i quali la terra sarebbe un essere vivente che loro chiamano Gaia e che verrebbe ferita da noi esseri umani con la nostra presenza e i nostri maltrattamenti. Insomma, è puro spiritismo pagano ma adesso quest'ultimo è entrato in un documento cattolico. E poi Francesco continua siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori ma noi siamo i suoi signori e dominatori. Ce lo dice il libro della Genesi certo. Dio ci ha dato la terra perché la possedessimo e ci moltiplicassimo in essa. Noi siamo i padroni e signori della terra eppure Papa Francesco si prende gioco di queste parole. Ci vedremo tali dice solo perché vogliamo razziare la terra a volontà. Ma nessuno ha mai detto che è giusto depredare la terra a volontà. Noi possiamo utilizzare la terra a volontà e le risorse che Dio ci ha donato su questa terra sono destinate ad essere usate a volontà dall'uomo. Secondo Francesco usare queste risorse significa razziare la terra ma sappiamo tutti che abusare delle risorse di Dio è un'offesa. Ma non a questa fantomatica sorella terra bensì a Dio in persona così come ai nostri fratelli. Se usiamo le risorse che altri nostri fratelli avrebbero potuto usare per sostentarsi avremmo offeso i nostri fratelli non la terra. Questo è uno dei problemi di questa enciclica nonché uno degli sviluppi peggiori della crisi post conciliare della Chiesa. Abbiamo dei doveri nei riguardi della terra? Cominciamo a pensare a quelli verso i nostri fratelli a partire dai nascitori. Sono loro che sono stati dimenticati qui. come ho detto nella scorsa puntata a questo proposito dopo il Vaticano II ci siamo spostati dall'essere cristo-centrici all'essere uomo-centrici. La nuova messa si accentra attorno all'uomo e così anche la nuova teologia. Ma oggi arriviamo addirittura ad essere terra-centrici cioè ci siamo spostati dall'uomo alla natura che diventa il centro di tutto. Ma in tutto questo ad essere dimenticato è Dio. Sì e lo possiamo leggere in quello stesso passo del laudato sì dove il Papa cerca di indurre la Chiesa ad abbracciare questa nuova pseudo-religione come se potessimo battezzarla e introdurla a livello biblico nella nostra fede. Il risultato è solo uno stravolgimento delle sacre scritture ovviamente. Assolutamente sì proprio come nel caso della teologia femminista o in quella omosessuale. Prima vengono le loro ideologie e poi la Bibbia e se quest'ultima contraddice le prime beh la si taglia o la si manipola a piacere per ottenere il risultato sperato. Che poi è ciò che accade nel paragrafo 2 dell'enciclica e proprio all'inizio di questa enorme enciclica e a lunga più di 180 pagine in quel paragrafo Francesco parla addirittura di nostra oppressa e devastata terra. Che esagerazione! Come potremmo mai viverci se fosse davvero ridotta in queste condizioni? Ma il Papa va oltre fra i poveri più abbandonati e maltrattati c'è la nostra oppressa e devastata terra che geme e soffre le doglie del parto. Una citazione tratta dal capitolo 8 della lettera ai Romani ma San Paolo non parlava certo della terra che soffre per il parto pensi dell'uomo in attesa del mondo che verrà. Quel passo non ha nulla a che vedere con gli abusi contro l'ambiente. Già ma è tipico del loro modo di fare non puoi più nemmeno fidarti delle loro citazioni bibliche. Quel che voleva dire San Paolo in questo passo è che le sofferenze di questo mondo sono nulla se paragonate alle gioie e alla felicità del mondo che verrà. Un punto di vista che va ben oltre quindi il mondo materiale in cui viviamo caduco e fallace per riguardare appunto il mondo spirituale e la salvezza eterna. Non ha nulla a che vedere con l'ambientalismo eppure all'inizio di questo paragrafo il Papa sembra dire ai fedeli che San Paolo sarebbe una specie di proto-ambientalista anteliteram che protestava per l'abuso dell'uomo nei confronti del suo ambiente il che farebbe piangere la terra è francamente oltreggioso oltre che incredibile. Beh, dobbiamo resistere e credere nella vera fede anche e soprattutto a causa di quello che Suor Lucia di Fatima già negli anni 70 aveva definito il disorientamento diabolico che ottenebre elementi della gerarchia ecclesiastica. Suor Lucia ci ha detto che il rimedio a questo disorientamento sta nell'attenersi alla fede e nell'ergerci a sua difesa. Una dichiarazione importantissima quella di Suor Lucia con la quale concludiamo questa puntata. bellissima.